Immagina che tuo figlio stia morendo e tu non possa far altro che aspettare. Aspettare che la malattia faccia il suo corso, che qualcuno venga ad aiutarti, perché la malnutrizione è una patologia che solo un medico può curare. In Niger, Medici Senza Frontiere è l'unica speranza di salvezza per migliaia di madri e di bambini, come Hassan e Husseini, due gemelli di un mese di vita che pesano poco più di un chino. Loro non possono più aspettare. Sostieni ora Medici Senza Frontiere. Con 9 euro al mese potrai salvare la vita a tanti bambini, come Hassan e Husseini, offrendo loro cure mediche, acqua e cibo terapeutico. Dona ora. Cosa stai aspettando?